La Georgia Tesis Group batte chiusi nell'ultimo dei tre incontri del girone e stacca il pass per le final eight di Supercoppa di Lega che si disputeranno all'Ignano Sabbiadoro in provincia di Udine dal 24 al 26 settembre. I biancorossi affronteranno nei quarti di finale la formazione di Sansevero, vincente del girone bianco e allenata da coach Luca Becchi che si qualifica per la prima volta alle finali di Supercoppa. Gli altri accoppiamenti vedranno Casale Monferrato affrontare Treviglio di Michele Carrea, Udine contro Cento e Scafati proprio contro Chiusi comunque ripescata come migliore seconda. E tornando alla gara di ieri la Georgia Tesis Group ha giocato una partita solida comandando sempre l'incontro e toccando anche il più 15 di vantaggio con prestazioni positive da parte di Johnson che riscatta la prova opaca contro l'Orlandina, di un super Carl Weedle e la conferma di Angelo Del Chiaro che chiude con una bella doppia doppia frutto di 10 punti ed 11 rimbalzi in 25 di utilizzo. L'aspetto negativo è la pausa di rilassatezza mentale e fisica ha raggiunto il massimo vantaggio ma Nicola Brienza sa già dove lavorare nel prossimo futuro. Al netto della mancanza di un americano, di magro che sta entrando, oggi ha fatto una discreta partita all'inizio, sta entrando un po' in condizione, la squadra sta reagendo bene, carichi, sta provando a fare le cose che gli chiedo e i nostri giovani ci stanno dando grandi soddisfazioni. Angelo ovviamente ha fatto due belle partite, le ultime due, l'obiettivo è continuare a lavorare come stiamo facendo e con la stessa mentalità. Sono contento di Angelo, sono contento di Jonathan, di Risma scusami, sono contento anche di Allinei che comunque quando entra ci dà un grande mano. L'importante è non fare mai un passo indietro con i ragazzi, con i giovani. Loro sono bravissimi e quindi ne usufruiremo durante l'anno e non ci lasceranno mai a piedi. Pistoia quindi giocherà la prima partita contro Sansevero venerdì alle ore 12 ed in caso di vittoria tornerà in campo il giorno seguente alle ore 18 per affrontare in semifinale la vincente tra Scafate e Chiusi.